non personalmente ma più che altro per le persone più anziane per i miei genitori lo spero che con i vaccini si possa migliorare la situazione meno sapere se per caso sono asintomatica io sto bene, è normale, dobbiamo per forza farlo per risolvere Termoli centro del Molise con più contagi da oggi al via un'importante attività di screening voluta fortemente dal comune uno screening di massa con la fattiva collaborazione degli infermieri della misericordia di Termoli e dell'associazione Cives l'iniziativa è organizzata dal comune di Termoli il comune di Termoli ci ha chiesto una mano per fare questo screening alla popolazione residente a Termoli noi ci siamo offerti logicamente sempre a disposizione come facciamo sempre come misericordia di Termoli e assieme a noi ci sta aiutando il Cives che sono degli infermieri dell'emergenza volontaria quindi infermieri della misericordia infermieri del Cives il comune ci ha messo a disposizione il materiale insomma tutte queste cose che ci servivano la parte burocratica l'ha fatta inizialmente il comune la parte finale la facciamo noi sempre questa mattina abbiamo dato il via saranno quattro giorni fino alla fine settimana fino a domenica quindi che verranno svolte queste attività il secondo step verrà comunicato la prossima settimana quindi per chiudere finalmente anche gli altri gruppi che abbiamo previsto e poi programmeremo la prossima attività di screening credo per il mese di aprile